Tra gli effetti della chiusura forzata dell'emergenza del coronavirus sembra registrarsi un acuimento delle violenze domestiche. Un 35enne aquilano è stato posto in arresto in un luogo di cura per violenza domestica appunto. La sezione reati contro la persona della squadra mobile della Questura dell'Aquila ha seguito un'ordinanza cautelare disposta in seguito alle ripetute occasioni in cui l'uomo si sarebbe accanito con insulti e parolacce, ma anche con strattonamenti e spintoni contro la propria madre, allo scopo di ottenere del denaro da utilizzare poi per l'acquisto di alcol e stupefacenti, di cui l'indagato e dipendente. È stata proprio la donna, dopo i ripetuti episodi di violenza, a rivolgersi alla polizia di Stato che ha accertato quanto avveniva all'interno delle mura domestiche. Il provvedimento cautelare si è reso ancora più necessario appunto in considerazione dell'attuale situazione di convivenza forzata dovuta all'emergenza da Covid-19, situazione che avrebbe potuto esacerbare ulteriormente la delicata situazione familiare ed esporre così la donna a più gravi forme di violenza. Sempre nell'ambito della Questura dell'Aquila cambio al vertice del compartimento della Polizia Stradale per l'Abruzzo e Molise. Il dirigente superiore della Polizia di Stato Paolo Fassari è il nuovo dirigente del compartimento della Polizia Stradale per Abruzzo e Molise, laureato in giurisprudenza originario di Catania, 59 anni, entrato in Polizia nel 1985. Il dirigente proviene da Padova dove ha ricoperto l'incarico di questore per oltre due anni. Paolo Fassari è stato in precedenza anche dirigente della sezione della Polizia Stradale di Reggio Calabria e Napoli, nonché dirigente del compartimento Polizia Stradale Puglia e Piemonte Valle d'Aosta. Grazie a tutti.